Buongiorno a tutti e a tutte, oltre a Cerignola volevo segnalare anche la disu di Lecce, in cui credo che ci siano 20 persone da quanto ho capito ad ascoltare, quindi li saluto. Saluto anche tutti quelli che in questi mesi sono conosciuti personalmente, sono alcuni di voi e anche noi finiamo oggi con questo ciclo, ma speriamo di avercene ancora per il prossimo ciclo. Oggi a Roma come vedete io sono al Formez, non c'avete quella famosa immagine di Amsterdam dietro le mie spalle, ne è quel vintage violetto che la mia webcam mi faceva a casa, oggi abbiamo invece uno sfondo bianco, fuori il tempo è piuttosto brutto qui a Roma e vi vorrevo salutare con questa ultima presentazione che io dedico a uno degli articoli più interessanti secondo me, il comportamento dei rapporti con il pubblico, in realtà questo ne avete cominciato a parlare già la volta scorsa con Mauro Alovisio che vi ha trattato tutta la parte relativa appunto al segreto che sta dentro questo articolo anche, ma questo articolo è molto articolato, scusatemi il gioco di parole, oggi vedremo la parte più corposa di questo articolo e come al solito io ho preparato un paio di casi per voi, casi che partono dalla vita reale, poi io li ricostruisco in maniera tale che possano diventare interessanti, quindi come si dice in gergo li condisco, insomma con un po' di mestiere, dopodiché ve li ripropongo e voi potete se volete utilizzarli come quando volete, anche un po' magari modificando le situazioni, perché chiaramente io parlo in uno specifico di alcune amministrazioni, ma in realtà basta facilmente modificare alcune piccole cose e si possono adattare anche alle altre amministrazioni. Allora, questo è un po' il piano di oggi, chissà se ce la faremo a fare tutto, perché come al solito prepariamo questi percorsi, qualche volta ce la facciamo a finire, qualche volta magari no, però nell'idea che riusciamo a fare il massimo possibile, lasciando magari a voi qualche domanda alla fine, saluto anche Rocco che mi saluta, perché ci siamo visti ultimamente all'AS di Matera, saluto l'AS di Venezia, l'AS di Parma, dove sono stato recentemente e tutti quanti quelli che ho incontrato personalmente, ho fatto a diversi giri in Italia questo periodo e sono stati veramente molto interessanti. Allora, parleremo appunto nella prima parte, nello specifico del comportamento nei rapporti con il pubblico, dando alcune coordinate di massima e poi entreremo nel primo caso che mi permette di farvi vedere uno strumento molto interessante che io ho pescato qualche tempo fa dall'Inghilterra, uno strumento di customer satisfaction secondo me all'avanguardia e quindi questo webinar voglio anche introdurre alcune modalità, alcuni strumenti che magari in Italia non si usano tanto, così potete vedere come fanno all'estero un certo tipo di ricerca e di valutazione. Poi parleremo dei cosiddetti pilassi della PIA Amica perché vedete che ha molto a che fare con quello di cui tratteremo, PIA Amica è una terminologia molto usata nel passato, poi è caduta un po' in desuetudine, però l'idea è un po' di approfondire questo concetto al di là poi delle questioni appunto di comunicazione politica, andiamo a vedere che cosa significa, cosa può significare PIA Amica in realtà. La quarta parte in realtà io tratto direttamente di un caso, il dilemma dell'ufficio anagrafe, anche questo è un caso che parte da una realtà che ho conosciuto, quinta parte molto brevemente è un altro pezzo dell'articolo 12 e poi dopo chiudiamo sui nostri strumenti, facciamo un riepiro con generale sui nostri strumenti e su quello che potete utilizzare voi. Ok, comportamento nei rapporti con il pubblico ovvero l'abecedario di un servizio alla persona, vediamo un po' quali sono le questioni che volevo porvi all'attenzione. Intanto cosa si intende per comportamento nei rapporti con il pubblico? Intuitivamente lo sappiamo, c'è tutto quello che ha a che fare appunto con l'utenza, quali sono le diverse declinazioni di questo concetto e qual è il motivo per cui il dipendente pubblico deve tenere un certo comportamento con il pubblico in generale e con l'utenza in particolare, perché vedremo che sono due concetti un po' diversi, all'interno dell'articolo 12 in realtà ci sono ambedue questi interlocutori, il pubblico in generale, quindi tutta la questione dell'immagine della pubblica amministrazione, ma poi secondo me l'articolo 12 ha molto a che fare soprattutto con quando poi il pubblico dipendente si trova a trattare direttamente con l'utenza, quindi con il destinatario del servizio. articolo 12, la parte che tratteremo soprattutto in questa sezione è questa qui, il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dell'amministrazione, qui c'è tutta una questione legata all'identità e all'identificazione del pubblico dipendente che come è arcinoto la maggior parte di voi è stata abbastanza risolta sulla questione dell'esposizione del badge, c'è anche una circolare della funzione pubblica, io non tratterò in particolare questo aspetto dell'identificazione, tratterò più la parte che viene adesso, salvo diverse disposizioni di servizio anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, il pubblico dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, vedete questi quattro elementi, spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, di questo tratteremo sostanzialmente, nel rispondere alla corrispondenza chiamata telefonica a messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia indirizza l'interessato a funzionario ufficio competente della medesima amministrazione. Quindi potremmo dire che i servizi in rapporto con il pubblico sono una particolare tipologia di servizi, noi possiamo definire i servizi pubblici come un'ampia categoria all'interno del quale si ricomprendono i cosiddetti servizi economici, i cosiddetti servizi economici di pubblica utilità, i servizi industriali come per esempio il servizio di smaltimento dei rifiuti, quello che volete voi, sono prestazioni sostanzialmente standardizzabili e possono essere oggetto di una produzione con tecniche industriali, questa è una tipologia di servizi molto nota e molto studiata e spesso invece non ho trovato una grande letteratura, un'analisi rispetto alla differenza che questi servizi economici hanno con i cosiddetti servizi alla persona, che invece sono servizi di tutt'altro tipo, che richiedono prestazioni adattate a specifici bisogni della persona, perché sostanzialmente i servizi vengono erogati all'interno di una relazione tra dipendente pubblico o soggetto erogatore e destinatario, in questo caso utente del servizio o in generale il cittadino, secondo lo schema un po' classico. Perché sono particolari questi servizi? Perché richiedono che le prestazioni da erogare o erogate devono adattarsi agli specifici bisogni della persona, che possono essere di tipo informativo, possono essere anche di tipo comunicativo, immaginiamo tutti i diversi stili comunicativi che le persone adoperano per entrare in contatto ad esempio con la pubblica amministrazione, quindi mail, face to face, quindi in presenza, oppure contatti telefonici eccetera. La questione che individua la specificità dei servizi alla persona è che questi servizi individuano nella relazione tra i soggetti il minimo comune denominatore che lega dette materie, quindi noi oggi parliamo soprattutto, quando parliamo di rapporto con il pubblico, parliamo di quegli specifici servizi che noi definiremo in qualche modo servizi alla persona, che sono per esempio molto noti nel terzo settore, immaginiamo tutti i servizi, per esempio l'esperienza che ho fatto io nelle comunità terapeutiche per dieci anni, quello è un classico esempio di servizio alla persona, perché? Perché la relazione è il centro motore dell'erogazione del servizio, per noi la modalità e la qualità della relazione con l'utenza permetteva all'80%, esagerando un po', però immaginando questo, la risoluzione dell'istanza, cioè la risoluzione del problema dell'utenza, perché in realtà la relazione non è solamente qualcosa che si struttura e che capita, la relazione in realtà è proprio uno strumento di risoluzione delle questioni e vedremo fra un po' come. Quindi servizio alla persona che all'interno dell'articolo 12 vengono declinati un po' in questa maniera, quindi la prima parte, l'identità, per avere un servizio alla persona è chiaro e per attivare una relazione è fondamentale che il soggetto erogatore sia identificabile, altrimenti non si attiva nessun tipo di relazione, non si attiva relazione con un risponditore automatico. Il secondo elemento è la qualità, cioè operare alcuni elementi che definiscono il servizio alla persona, spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità, noi tratteremo soprattutto spirito di servizio e disponibilità. E poi un certo atteggiamento, atteggiamento che il soggetto erogatore, l'individuo e l'organizzazione che si trova ad erogare un servizio alla persona ha nei confronti dell'utenza, come si risponde alla corrispondenza, alla posta elettronica, che è il tipo di capacità di orientamento e di informazione sia nei confronti dell'utenza. Per farvi entrare nello specifico di questo capello introduttivo che è piuttosto teorico, io però vorrei accompagnarvi lungo un percorso e per questo vorrei introdurvi uno strumento che vi dicevo prima, il Customer Journey Mapping è uno strumento che io ho trovato qualche anno fa in Inghilterra quando stavo cercando degli strumenti di Customer Satisfaction un pochino più raffinati di quelli normali, tipo le faccette, sapete che abbiamo avuto per lungo tempo lo standard di riferimento rispetto ai servizi di Customer Satisfaction, la possibilità dell'utente di inserire degli emoticon, di gestire la loro soddisfazione attraverso l'utilizzo di emoticon, che sicuramente va bene, ma io ero alla ricerca di qualcosa di più sofisticato, cioè qualcosa che in realtà mi facesse capire non solo la soddisfazione immediata, ma anche quella che io potrei definire le escursioni emotive che l'utente ha all'interno di un singolo percorso o processo nel quale lui si trova a stare, nel quale si trova a vivere nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione. Allora facendo una ricerca è venuto fuori questo Customer Journey Mapping che è appunto il processo attraverso il quale si tracciano e si descrivono le esperienze che i cittadini utenti dei servizi pubblici fanno quando hanno a che fare con un'amministrazione, prendendo in considerazione, questo è l'elemento fondamentale, le reazioni emotive degli utenti a quelle esperienze e le escursioni che queste reazioni emotive hanno. Ora sedetevi se non siete già seduti, tranquillizzatevi, vi accompagno in uno di questi percorsi, che chiaramente è un percorso inventato, ma non è poi così inventato, nel senso che all'interno ci sono elementi di tipo autobiografico, nel senso che sono cose che non dico che mi sono successe a me, però ho assistito, ho vissuto e poi fanno parte anche di quell'esperienza secondo me ricca e meravigliosa che io ho fatto qualche anno fa qui al Formez, occupandomi per conto di Linea Amica, che è quel servizio del Formez che Formez ha gestito per tanti anni, occupandomi per Linea Amica delle cosiddette segnalazioni negative. Il mio lavoro era proprio costruire insieme all'utente che in realtà inviava una semplice segnalazione di qualcosa che non gli andava bene, una specie di viaggio insieme a lui per cercare di capire quali erano stati effettivamente i colli di bottiglia, le questioni che nella relazione non avevano funzionato con l'amministrazione con cui questo cittadino utente ce l'aveva in particolare, per poi fare un lavoro con l'amministrazione segnalata di ricostruzione del percorso e eventualmente provando a risolvere questi colli di bottiglia. Quindi mischiando un po' queste due differenze ho tirato fuori questo viaggio che brevemente vi illustro. Le circostanze sono queste, stiamo parlando, il soggetto è Marta, Marta è una mamma che deve iscrivere la sua bambina a scuola al servizio di mensa scolastica, le due cose potrebbero sembrare spesso due servizi che uno fa tranquillamente nello stesso momento, invece la realtà vi confesso che è molto diversa, nel senso che può darsi che un'amministrazione inserisca questi due percorsi all'interno di un unico procedimento invece è molto più facile da quanto ho capito che invece questi percorsi siano completamente disgiunti nonostante abbiano a che fare con lo stesso evento della vita e poi parleremo anche di cosa significa evento della vita. Quindi Marta deve iscrivere la sua bambina a questi due servizi, prima la scuola e poi il servizio di mensa scolastica. Parlando con una conoscente al parco capisce che per i redditi più bassi è prevista una esenzione o una parziale riduzione del pagamento del servizio, non so quanti di voi abbiano avuto questo tipo di esperienza, penso molti, avendo bambini, sia come fornitori di servizio, perché magari molti di voi lavorano proprio nei comuni hanno a che fare con questo tipo di situazioni. Marta non è una persona molto avvezza all'uso di internet, non ha nemmeno il pc e si deve recare a un internet point vicino a casa sua, come potete immaginare ci sono ampli categorie di persone e di utenti, quelli che praticamente non staccano la testa e la faccia dal cellulare e dai pc e ne conosco tanti, ma anche persone che non hanno queste facilità o abitudini. Inoltre Marta spesso si è disorientata di fronte alle incombenze burocratiche, è una mamma sola e non ha persone a cui rivolgersi per un aiuto ed ecco che entra in scena uno degli elementi fondamentali, nelle categorie di potenziali utenti ce ne sono alcune che hanno più bisogno di altri di essere accompagnate, qui inizia a entrare nella dimensione del servizio alla persona. Marta è convinta che le due procedure, iscrizione scolastica e mensa, possano essere trattate, gestite contemporaneamente perché si tratta in fondo di servizi che si svolgeranno nello stesso luogo, quindi quella che è una visione piuttosto logica di un utente spesso invece si frappone, fronteggia una situazione organizzativa di un'amministrazione completamente diversa, non solo di un'amministrazione ma di due o più amministrazioni, in questo caso la scuola e l'amministrazione comunale. Iniziamo il suo viaggio e vi faccio vedere come funziona il customer journey mapping, cioè si ricostruisce insieme all'utente il viaggio cercando di puntualizzare tutti quei momenti topici cruciali in cui l'utente in qualche misura ha impatto nei confronti dell'amministrazione, cioè tutte quelle situazioni in cui o si parla con un funzionario o si rega un'amministrazione o si entra in contatto anche attraverso il web con un'amministrazione, questi punti di contatto strutturano o non strutturano bene o meno bene, in maniera disastrosa una relazione con l'utente, queste relazioni vengono in qualche maniera raccontate e il facilitatore del customer journey mapping che è un consulente normalmente o un operatore dell'amministrazione che sta lì in sede di valutazione traccia un diagramma che in qualche maniera fa, come vedete dallo stato emotivo, fa risaltare i punti in cui la relazione ha generato delle conseguenze da un punto di vista emotivo negativi o positive, questo è un po' lo strumento. Primo impatto, Marta ce l'ha a scuola, si rega a scuola per iscrivere la figlia, le spiegano che l'iscrizione ormai si fa online e che loro non ricevono e non trattano più questo tipo di pratiche. Io ogni tanto vi farò, effettivamente questo è avvenuto a me, questa è la prima cosa che è avvenuta a me quando sono andato a iscrivere mia figlia a scuola, la prima cosa che mi hanno detto, la prima risposta che mi hanno dato è esattamente questa qui. Chiaramente Marta immaginate la sua situazione, la sua situazione è che è una mamma sola che ha una difficoltà di accesso a internet, io non ce l'avevo questa difficoltà e quando mi hanno risposto così io ero anche piuttosto sollevato, diceva meno male che si fa tutto su internet perché così me la cavo direttamente a casa mia, faccio tutto io e non c'è bisogno di avere troppe interlocuzioni che mi fanno perdere un sacco di tempo, ma le persone non sono tutte uguali, non hanno tutta questa disponibilità, non hanno tutta questa capacità di stare su internet, di gestire queste situazioni e quindi se una cosa andava bene a me, questa situazione potrebbe non stare bene a Marta, infatti Marta inizia di inquietarsi, di avere una certa inquietudine e comincia a generarsi una certa ansia e paura perché lei in realtà internet non è che lo sa usare proprio bene e soprattutto non avendocelo a casa dovrà stare un certo periodo di tempo in un internet point probabilmente a gestire questo tipo di situazione che però in una situazione di solitudine perché essendo sola non ha possibilità di avere un supporto direttamente dai propri familiari e infatti Marta va all'internet point dove compila il modulo di iscrizione online, al momento dell'iscrizione non le sembra di notare la presenza di alcuna informazione sulle esenzioni o riduzioni nel pagamento. Fa l'iscrizione online, già questo le crea un certo problema perché alcuni passaggi magari non li ha molto chiari, però la cosa che diciamo che la inquieta di più è che all'interno di questa procedura non c'è da nessuna parte né nel modulo né nelle spiegazioni precedenti qualcosa che la riporti al fatto che lei deve anche fare questa famosa esenzione parziale o totale dalla mensa scolastica, lei comincia a pensare che sarà un'altra ulteriore incombenza che le farà perdere altro tempo. Quindi come vedete cominciamo, per chi ha seguito la storia del dottor Rossi se lo ricorda, questo alternarsi tra positivo e negativo, in quel caso era ignorare o segnalare un'osservazione di una condotta illecita, in questo caso la reazione emotiva comincia a prendere una certa consistenza e lo sfondo è giallo perché giallo significa allerta in qualche maniera. Lo sfondo diventa ancora più giallo, diventa arancione perché tornando a scuola e cercando di capire come deve fare invece la parte sull'esenzione, una funzionaria amministrativa della scuola che lavora alla segreteria amministrativa le dice che la questione della mensa è competenza del comune. Per la seconda volta la scuola rigetta la palla, rimanda la palla al comune, effettivamente è così, nel senso che poi il comune che gestisce tutta la parte di questo tipo di procedure dell'esenzione della mensa scolastica, è al comune che effettivamente ci si deve recare per avere questo tipo di situazione, però Marta la prende ancora male, nel senso che anche in questo caso reagisce con ansia, nel senso che questa risposta le genera una maggiore ansia, continuiamo a scendere nel processo. Allora va all'urto del comune dove le dicono di consultare la pagina internet dedicata, lì troverà anche il modulo, alla richiesta di Marta di poterne avere una copia per verificare eventuali punti poco chiari, le rispondono che quello non è un compito che possono svolgere loro e le rispondono in questo modo, si immagina se facessimo tale verifica a tutti quelli che ce lo chiedono? Questa è una risposta che effettivamente è stata data anche a me, però a prescindere da quello che mi è stato detto, vi volevo far riflettere sul fatto che Marta impatta in una situazione ancora peggiore, all'URP dove normalmente lei appunto pensa di recarsi, la rimandano di nuovo sul sito internet dove dovrà fare una nuova ricerca e questo le genera ancora maggiore ansia, tra l'altro questa ricerca e la compilazione del modo dovrà farla di nuovo in maniera solitaria perché in realtà all'URP non trova nemmeno il modello cartaceo sul quale lei poteva in qualche maniera avere uno scambio di informazione e orientamento con il soggetto e il funzionario dell'URP che avrebbe potuto spiegarle alcuni passaggi. Marta consulta la pagina internet, scarica il modulo di esenzione ma si accorge che dovrà produrre anche la dichiarazione ISE e questo la manda un po' nel panico, sapete che adesso per questo tipo di situazioni bisogna compilare il modulo ISE, il modulo ISE si fa presso un CAF, però per una persona che ha questo tipo di problemi probabilmente impattare questa informazione genera ancora maggiore ansia. Torna al comune, questa volta va all'ufficio mensa scolastica, quindi non torna all'URP ma va direttamente all'ufficio mensa scolastica che era segnalato sul sito e dove generalmente vanno a finire queste domande di esenzione e dove vengono trattate. Parla con una funzionaria che con molta calma e pazienza le spiega tutta la procedura, in più le indica le organizzazioni a cui può rivolgersi per ottenere l'ISE, le dice anche che quando avrà i documenti dovrà tornare proprio da lei. Vedete come l'impatto è sicuramente positivo e il costo di questo operatore pubblico generano all'interno di questa situazione un impatto emotivo molto positivo in Marta che finalmente comincia ad avere una speranza, comincia a immaginare una risoluzione del suo problema e tra l'altro anche un rapporto di fiducia almeno all'interno del comune con un soggetto che in questo caso è questa funzionaria dell'ufficio mensa scolastica. Bene istruita sul da farsi Marta ottiene rapidamente l'ISE perché essendo stata ben orientata a Marta si rega probabilmente a un CAF con tutte le informazioni necessarie, produce il documento e quindi è pronta. Il giorno dopo si rega nuovamente dalla funzionaria del comune, cioè quella che era stata così disponibile, ma scopre che è in malattia e che non tornerà entro le prossime due settimane, il termine per la presentazione della domanda è inferiore alle due settimane, quindi non tornerà prima della scadenza della sua domanda. La funzionaria che temporaneamente è in sostituzione afferma di non saperne nulla e liquida Marta con una frase abbastanza ricorrente, siamo sotto organico. Come vedete da una situazione di impatto enormemente positivo Marta ricade in un impatto fortemente negativo e lo sfondo del customer journey mapping comincia ad apparire in rosso perché questa è una botta molto forte dal punto di vista emotivo per Marta. Marta vuole parlare con la dirigente dell'ufficio, le spiega le sue vicissitudini, la dirigente chiama un funzionario e gli chiede se può compatibilmente con i suoi impegni di lavoro affiancare Marta nella verifica dei dati inseriti nel modulo e nella presentazione al protocollo. Marta non si arrende, vuole parlare con il dirigente e le dice io non posso tornare un'ennesima volta, ho questi problemi, la funzionaria X è stata così carina e disponibile, mi ha fatto capire che sarei potuta tornare qui in qualsiasi momento una volta prodotto l'ISE, però poi sono tornata, non c'è, come faccio? Allora la dirigente, mossa a pietà, chiama un altro funzionario e quasi lo implora, gli chiede ma puoi seguire questa faccenda per favore, questa signora ha un problema, aveva parlato con la dottoressa X l'altro giorno e adesso la dottoressa X non c'è, in malattia, puoi pensarci tu per favore? Che puntualmente avviene, Marta però nota una certa freddezza da parte del funzionario, un senso di fastidio per quel lavoro aggiuntivo, cioè effettivamente il funzionario gli fa quella, ma lo fa un po' come un favore personale sostanzialmente e nota che in realtà il funzionario sembra essere infastidito da quell'ulteriore aggravio di lavoro che magari non aveva immaginato di avere quella giornata. Marta non fa a meno di ascoltare i commenti sarcastici di alcuni funzionari destinati alla funzionaria che le aveva fornito un così prezioso e cortese aiuto, commenti del tipo quella ci mette nei guai a tutti. Quindi Marta impatta una dimensione organizzativa che non fa a meno di osservare e che è quella che all'interno di quell'organizzazione ci sono probabilmente dei funzionari che vivono il loro rapporto con il pubblico come spirito di servizio e disponibilità oltre le proprie competenze e tutta un'altra parte che vive invece quel servizio con questo tipo di atteggiamento per cui cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare e chi non fa così in realtà ci sta mettendo i bastoni fra le ruote. Marta ottiene l'esenzione parziale del pagamento della mensa, ma quell'esperienza le lascia l'amaro in bocca ed una considerazione molto negativa di quell'amministrazione. Capisce anche però che ci sono degli ottimi funzionari ma che vengono isolati e si ammalano perché non riescono a vivere in un posto così. Quindi quello che osserva Marta e la reazione a questa osservazione è un commento interiore e in qualche maniera anche una spiegazione alla malattia della funzionaria. Secondo lei la funzionaria in un ambiente così degradato, che non prende in considerazione i bisogni dell'utenza, in realtà finisce per ammalarsi perché nell'idea di Marta c'è anche questa. E qui finisce il viaggio di Marta. Avete visto che tipo di escursione emotiva questa persona ha avuto, parte con aspettative basse che in qualche maniera le vengono confermate da quello che vive con le sue interlocuzioni, dopodiché però ha un'improvvisa impennata quando conosce e entra in relazione con questa funzionaria che si dimostra così cortese e disponibile e che le ha dato tutte le informazioni, se ci fate caso quello che la funzionaria ha fatto sta proprio esattamente in quelle due paragrafi che vi ho fatto leggere prima, quindi spirito di servizio, cortesia, correttezza e disponibilità, ma poi c'è tutta quella parte su cui il funzionario dà tutte le informazioni utili, orienta rispetto ai servizi e alla qualità dei servizi sul territorio e alle possibilità che questi servizi possano erogare a ulteriori servizi, quindi in realtà quel funzionario si comporta proprio come direbbe l'articolo 12 del codice di comportamento, ma poi ritorna giù nel momento in cui torna al comune e non trova più quel funzionario. Poi gli sviluppi sono appunto quelli lì, per cui alla fine nella mente di Marta sorge quello che noi chiamiamo il fallimento reputazionale della pubblica amministrazione. Vediamo un po' quali sono gli antidoti o le possibilità che queste amministrazioni avevano passo passo per provare a cambiare un po' questo tipo di situazione. Nella prima situazione, quando Marta si rega a scuola per iscrivere la figlia e le spiegano che l'iscrizione ormai si fa online e che loro non ne vogliono più sapere sostanzialmente di quella situazione, beh la scuola avrebbe potuto certamente, e questo molte scuole lo fanno, attenzione, non è che io ho disegnato una situazione negativa proprio per esemplificare quello che non funziona, ma io conosco tantissime situazioni in cui queste cose già funzionano in maniera molto valida, soprattutto nelle scuole. Per esempio una cosa che la scuola può fare, potrebbe sviluppare i cosiddetti protocolli di accoglienza e orientamento, soprattutto per i soggetti che hanno più bisogno di informazione e orientamento, come per esempio le mamme singole, ma anche per esempio gli stranieri. Ho visto che ci sono molti di voi funzionari che stanno dentro le scuole o come docenti o come funzionari amministrativi e non so se sapete, ma sicuramente lo sapete, esistono varie linee guida del MIUR, tra queste linee guida esiste quella molto interessante sull'inclusione degli studenti stranieri, in cui le linee guida esortano gli istituti scolastici a prendere in considerazione la produzione di procedure, protocolli di accoglienza e orientamento, cercando di accompagnare i genitori stranieri nel processo di iscrizione, cercando di stargli il più vicino possibile. Per esempio le cosiddette iscrizioni assistive, qualche volta ho visto che le scuole mettono a disposizione un pc per i genitori che ne hanno bisogno, ai quali poi danno assistenza effettiva nel processo proprio di iscrizione online. Questo lo fanno e non c'è niente di difficile da fare. In questo modo ridurrebbero il cosiddetto rischio di fallimento appunto nella disponibilità a prendersi carico dell'utente. Adesso prendiamo nota di questa parolina magia che si chiama no extra mile, adesso ce la ricordiamo ma poi vi spiegherò bene che cosa significa extra mile. Quindi in realtà se noi volessimo girare in positivo questa situazione diremmo che Marta recandosi a scuola trova una funzionaria che le chiede se ha bisogno di assistenza nella compilazione della domanda. Il secondo evento è quello appunto in cui Marta si rega all'internet point e si rende conto che quando sul sito praticamente non esiste un collegamento tra l'iscrizione scolastica e il procedimento diciamo sulla richiesta di esenzione e riduzione del pagamento. Qui abbiamo un problema proprio di organizzazione appunto del sito web. Il servizio di iscrizione scolastica potrebbe essere integrato con un cosiddetto live event. Che cos'è un live event? Non so se conoscete questa metodologia, questa modalità, poi vi faccio vedere anche una dimostrazione di come lo stanno facendo. Praticamente all'interno del sito si categorizzano tutti i bisogni di un utente e quindi le sezioni non vengono organizzate in base all'organizzazione interna dell'amministrazione ma in base a quello che un utente va a cercare e quindi se un utente ha il problema dell'iscrizione scolastica di tutti i servizi che è a cascata questo comportano, quindi il pagamento della mensa, le questioni legate per esempio ai libri scolastici, si ritrova tutti in un'unica sezione, vengono raccolte all'interno di una macro sezione e tutte le informazioni e le procedure necessarie vengono tutte inserite all'interno di un'unica sezione. È un modo per organizzare l'informazione dal punto di vista dell'utente. In questo per esempio i canadesi sono stati i fautori principali ma noi poi abbiamo cominciato a esplorare questa dimensione e moltissimi siti delle amministrazioni italiane utilizzano questa forma di categorizzazione che si chiama life events e che fa perdere meno tempo possibile alle persone, infatti qui il fallimento di questa amministrazione comunale è la cosiddetta timeliness, cioè la tempestività, perché fallisce nel fornire un'informazione corretta e utile in tempi ragionevoli. Mentre invece avrebbe potuto creare una categoria scrivendo devo iscrivere i miei bambini a scuola, all'interno di questa macro categoria avrebbe potuto inserire anche la questione della mensa scolastica. Un'altra situazione è quando torna a scuola e una funzionaria di nuovo le dice che la questione della mensa è competenza del comune e qui il problema, come vedete, no extra mile perché l'amministrazione scolastica fallisce di nuovo nella disponibilità a prendersi carico dell'utente. E come può essere risolto questo problema in maniera anche piuttosto facile? Semplicemente facendo dialogare il sistema informativo dell'amministrazione comunale con quello della scuola, facendo in modo per esempio che il funzionario amministrativo della scuola sia in grado di entrare all'interno del sistema informativo comunale. Sembra una cosa banale ma invece è una delle cose più difficili e complicate che in questo momento c'è in Italia, far dialogare dei sistemi oppure semplicemente dare la possibilità a vari soggetti che lavorano in amministrazioni diverse di occuparsi di una procedura che invece in qualche maniera potrebbe e dovrebbe essere integrata in un unico processo che è l'iscrizione scolastica e di tutti i microprocessi a cascata. Quindi Marta scopre che il personale scolastico è in grado di svolgere lo stesso lavoro che svolgerebbe un funzionario comunale. Questo sembra abbastanza banale e ovvio in teoria ma nella realtà questo è veramente molto complicato. Però è uno dei cosiddetti colli di bottiglia nei confronti dei quali poi la reazione degli utenti è molto negativa. Altra cosa, quando va all'URP e le dicono di consultare la pagina dedicata, le dicono anche che loro non hanno modelli cartacei e che non hanno tempo di stare appresso a tutte le situazioni che gli arrivano. In questo senso una possibile soluzione è che anche all'URP come anche nelle scuole ci fosse un servizio di accompagnamento dedicato a queste procedure e a beneficio soprattutto dei soggetti che ne mostrano un particolare bisogno. Come a scuola dove c'è una postazione pc e un funzionario diciamo in qualche maniera si rende disponibile ad accompagnare l'utente anche al comune, all'URP in questo caso si potrebbe verificare la stessa cosa. Andando ancora avanti appunto Marta consulta le pagine internet e scopre che deve fare l'isee. Una soluzione facile facile che però è così difficile da attivare perché se ne trovano veramente poche, per esempio basterebbe ampliare il livello informativo e inserire all'interno delle pagine che ti dicono devi andare al CAF se vuoi fare l'isee, ti danno anche per esempio una lista di tutti i CAF della zona, ancora di più si potrebbe eventualmente fare anche una mappa geolocalizzata di tutti questi CAF dove effettivamente una persona può produrre con facilità l'isee. Una soluzione talmente banale che spero è difficile da attuare, io non ne ho trovate molte. Ulteriore passaggio, ecco questo è un passaggio fondamentale perché in questo momento Marta torna al comune e questa funzionaria si rende disponibile a seguirla, a prenderla in carico si dice tecnicamente, prende in carico l'istanza di Marta e la situazione di Marta e in questo momento come vedete lo scarto emotivo è fortissimo e noi notiamo quello che gli inglesi chiamano l'emersione del bene relazionale, cioè in questo momento la relazione ha un salto di qualità e questa relazione qualifica effettivamente il servizio in rapporto con il pubblico come un servizio alla persona in tutto e per tutto, cioè è il momento in cui il funzionario decide volontariamente di passare a un livello relazionale più alto, da un livello informativo e di semplice e mero orientamento procedurale passa a un livello relazionale e il passaggio è tutto consiste esclusivamente nella cosiddetta locuzione tecnica prendersi in carica. Quando uno prende in carica l'istanza di un utente come questo qui opera quel famoso salto di qualità e infatti il customer journey mapping registra questo salto di stato emotivo da profondamente negativo a profondamente positivo. In quel momento effettivamente cambia qualcosa. Che cos'è un bene relazionale? Andiamo un po' dentro questo concetto che è fondamentale nei servizi in rapporto con il pubblico, perché l'articolo 12 descrive in maniera molto dettagliata attraverso quei tre paragrafi che vi ho fatto vedere prima. Il bene relazionale emerge all'interno di una relazione, emerge è la parola giusta, è la parola giusta da usare in questi casi, perché? Perché in realtà nessuno dei soggetti che entra in relazione probabilmente prima di entrare in relazione ha come propria intenzione quella dell'emersione di una relazione, in realtà non ci pensa nessuno dei due, né Marta quando arriva all'ufficio dove si trova questa funzionaria, né tantomeno la funzionaria. In realtà Marta ha il problema di risolvere un problema e la funzionaria in realtà sta lì per lavorare, però a un certo momento emerge questo bene relazionale quando la funzionaria ascoltando l'istanza di Marta e prendendo in considerazione la sua condizione, la sua situazione decide di prendere in carico Marta, non tanto l'istanza ma proprio l'utente. Un bene relazionale può emergere all'interno di una normale transazione come quella tra Marta e la funzionaria del comune, quando a un certo punto nel mezzo di un ordinario procedimento amministrativo l'atteggiamento di un operatore pubblico spiazza l'utente e questo è un elemento fondamentale, cioè va oltre le aspettative dell'utente, maggiore è la possibilità che un bene relazionale emerga quanto maggiore è l'aspettativa negativa rispetto al servizio. Marta veniva da un progressivo abbandono delle sue speranze nei confronti del servizio e in quel momento che emerge il bene relazionale, perché Marta non se lo aspetta quella risposta del funzionario, quella disponibilità, quello spirito di servizio, quella presa in carico, è così che il bene relazionale emerge. Secondo questa ricercatrice statunitense, Carol Ulaner, i beni relazionali sono beni che non possono essere né prodotti né consumati e quindi acquisiti in modo solitario da un solo individuo, cioè questi sono beni che vengono prodotti da una relazione e richiedono reciprocità, quindi questo spiega perché per esempio un bene relazionale non emergerà mai da un'interlocuzione che un utente ha, ad esempio con un sito internet, con una frequently asked questions, con un risponditore automatico, qui entra in grande evidenza il fattore umano, cioè la qualità del dipendente pubblico, la qualità relazionale del dipendente pubblico, perciò è così importante che nei rapporti con il pubblico ci sia effettivamente una componente professionale da questo punto di vista molto sviluppata. Infatti emerge il bene relazionale, continua anche su questa parte qui, dopodiché però arriva la botta finale perché a Marta gli rispondono in quel modo quando capisce che la funzionaria si è messa in malattia e la sua sostituta non sa assolutamente di che cosa sta parlando. Da un livello individuale passiamo a un livello invece organizzativo, perché qui l'elemento relazionale non ha più un carattere semplicemente individuale e riguarda solamente il pubblico funzionario, ma riguarda soprattutto l'organizzazione di quel servizio, cioè anche l'organizzazione può produrre beni relazionali, ma quando? Quando esiste la capacità di operare secondo quello che io chiamo il front office unico, cioè quando all'interno di un front office, come potrebbe essere per esempio quell'ufficio lì, tutte le relazioni, tutte le comunicazioni con l'utenza vengono registrate attraverso per esempio un CRM, cioè un software di gestione delle relazioni, Customer Relationship Management, in grado di tracciare tutte le comunicazioni e i processi di gestione delle istanze con ogni singolo utente. Questo permette ad ogni operatore di avere contezza su qual è il punto in cui sta una relazione con un utente. Quindi in realtà il fatto che ci sia un funzionario o l'altro è praticamente irrilevante, perché ogni volta che si ha a che fare con quell'ufficio e con tutte le persone che ci stanno dentro in realtà si ha un impatto sempre e solo con un'unica persona, cioè si ha l'impressione di avere un interlocutore unico. Tutti sanno, semplicemente leggendo sul computer a che livello, qual è il momento della relazione con l'utente, tutti sanno da dove cominciare. In questo modo l'utente non deve spiegare mai due volte lo stesso problema a due persone diverse, la sua istanza verrà scomunicata solo e sempre un'unica volta. Si ha questa idea di linearità che nei confronti dell'utente genera un impatto emotivo molto positivo, perché si fa rendere conto l'utente che in realtà sta impattando una dimensione organizzativa molto sofisticata. In questo caso l'ufficio potrebbe attivare questo software che noi chiamiamo CRM e che noi utilizzavamo per esempio con Lineamica, Lineamica aveva esattamente questo tipo di funzionamento. Quando ci arrivavano le segnalazioni, noi attivavamo una relazione con l'utente e poi registravamo tutte le comunicazioni con l'utente, in modo tale che se la volta dopo l'operatore era malato, non era disponibile, l'operatore in sostituzione riprendeva proprio da quel momento in cui era registrato sul software l'interlocuzione e dopodiché l'utente aveva l'impressione di parlare sempre con la stessa persona. È chiaro che questo è un livello molto sofisticato, però immaginate che impatto ha questo tipo di organizzazione del front office nei confronti dell'utente. ultimo elemento, Marta vuole parlare con la dirigente dell'ufficio, se vi ricordate la dirigente quasi implora, si trova a implorare un funzionario che in qualche modo gli chiede, puoi anche fare questo oltre al lavoro che fai? In realtà qui ci stiamo confrontando con un secondo livello organizzativo, perché? Perché l'ufficio in realtà potrebbe avere un sistema cosiddetto di triage, lo dicono anche molti degli osservatori internazionali, cioè fare un po' come funziona il pronto soccorso. Per i soggetti, per varie tipologie di soggetti, prioritarizzare un po' il trattamento. Per i soggetti come Marta ci potrebbe essere un sistema di triage che appunto identifica Marta come un soggetto con codice rosso che va preso in seria considerazione, va preso in carico e va gestito dal funzionario prioritariamente rispetto agli altri compiti e alle altre manzioni che deve svolgere. Poi questo lo conosciamo, c'è un livello di fallimento reputazionale, ma questo non lo trattiamo adesso perché in realtà ha a che fare con l'esito di questo percorso. Quindi, riassumendo, adesso facciamo una parte più concettuale per rimettere un pochino insieme quello che ci siamo detti attraverso questo percorso e attraverso l'analisi di come si potrebbe cambiare questo percorso, perché lo strumento del customer journey mapping funziona proprio così, una volta tracciati questi punti critici, l'organizzazione deve capire insieme al valutatore come in qualche maniera risolvere quei colli di bottiglia sia da un punto di vista individuale, cioè delle qualità relazionali di chi in qualche maniera ha a che fare con l'utenza, sia da un punto di vista organizzativo, perché la cosa con cui vorrei riflettere con voi è che l'articolo 12 che si sofferma sul dipendente pubblico in realtà non prende in considerazione che la qualità relazionale è anche un fatto organizzativo, non è solamente una dimensione individuale o del singolo professionista, questo è un fatto fondamentale, perché altrimenti troviamo, come è successo a Marta, funzionari che hanno una qualità relazionale molto spiccata, come quella che effettivamente la aiuta e poi troviamo invece un contesto che non sta a quelle regole, che non sta a quella disponibilità. Quindi difficilmente un singolo funzionario, un singolo dipendente pubblico da solo può gestire l'articolo 12 autonomamente, c'è il bisogno di un contesto organizzativo che in qualche maniera accolga quello spirito, accolga quell'atteggiamento. Questa è la tabella con la quale l'Institute for Citizen Center Service canadese, uno degli organismi più autorevole rispetto alla customer satisfaction, ma in generale a quelli che vengono chiamati i servizi centrati sul cittadino, che sono stati inventati qualche anno fa proprio dai canadesi di questo istituto, sono stati i primi a ragionare su come dare forma a servizi realmente centrati sul cittadino, come aumentare la qualità relazionale a livello individuale, a livello organizzativo dei funzionari pubblici. Facendo una ricerca l'ICCS, ha tirato fuori questo report, all'interno di questo report, Information for Citizen First, c'è questa tabella molto interessante in cui loro mettono nero su bianco quello che è la risultanza di questo report e che nella tabella descrivono quali sono i fattori chiave, gli elementi più importanti che gli cittadini utenti dichiarano di valutare positivamente nella relazione con un funzionario pubblico e con un'organizzazione amministrativa. Il primo elemento è la tempestività, la cosiddetta timeliness, cioè sono soddisfatto del tempo che ci ho messo per ottenere il servizio, quindi la prima cosa che un cittadino osserva è la cosiddetta tempestività, la tempestività in realtà non sta nell'articolo 12, cioè non è una qualità che viene richiesta al funzionario pubblico, in realtà ci sta a livello un pochino indiretto, l'idea è che il pubblico funzionario deve sapere orientare e informare correttamente perché la funzione di informazione e orientamento fa perdere meno tempo alle persone, in questo senso potremmo anche renderla visibile all'interno dell'articolo 12. Ma la cosa più interessante è la seconda posizione, disponibilità a prendersi carico dell'utente, i funzionali si sono adoperati anche al di là della loro sfera di competenza per assicurarsi che io ricevessi ciò di cui avevo bisogno ed ecco la famosa locuzione è walking the extra mile, camminare quel miglio in più, dicono loro. Dopo entriremo un po' ancora specificamente dentro questa storia dell'extra mile. Poi abbiamo il risultato, cioè l'outcome, ho ottenuto ciò di cui avevo bisogno perché chiaramente questo è sempre fondamentale, la cortesia che è un elemento che noi ritroviamo anche nell'articolo 12, i funzionari erano cortesi e mi hanno fatto sentire a mio agio, la conoscenza e la competenza, cioè i funzionari erano preparati e competenti e per ultimo la correttezza, sono stato trattato correttamente. Questi sono i fattori chiave, i cosiddetti pilastri di quella che io ho chiamato la PA amica, cioè quando ci troviamo di fronte a queste qualità effettivamente possiamo pensare di trovarci di fronte a una PA amica. Il timeline, la tempestività è presa in carico, sono i due elementi fondamentali, la tempestività è il momento in cui l'utente viene preso in considerazione dal cosiddetto front office, per esempio noi a Linea Amica avevamo un tempo massimo di 24-48 ore nel rispondere alle comunicazioni, alle istanze dei cittadini, cioè un cittadino scriveva un'email oppure chiamava al telefono per segnalare il suo problema, noi del back office avevamo tra i 24 e i 48 ore di tempo massimo per rispondere almeno per attivare una prima interlocuzione, per approfondire distanza, però dovevamo far passare meno tempo possibile. Questo è uno degli elementi più importanti per avviare quel discorso dell'emersione del bene relazionale, perché il bene relazionale emerge nel momento in cui si fa capire all'utente che l'utente è importante, la sua istanza è fondamentale, la sua istanza viene presa in seria considerazione. La presa in carico, walking the extra mile, chiaramente non è tanto riferito a uno stile comunicativo, insomma come la gentilezza e la cortesia. Walking the extra mile significa proprio prendere in carico l'istanza del cittadino, cioè l'assunzione dell'istanza del cittadino come problema da risolvere e l'accompagnamento nella soluzione del problema stesso, che è un po' quello che ha fatto quella funzionaria con Marta, laddove ciò ovviamente sia possibile. Questo definisce un servizio come servizio alla persona, perché in quel momento il funzionario decide di attivare una relazione, di prendersi in carico quel soggetto. È un termine inglese, pressoché traducibile in italiano, che esprime in parte il concetto di presa in carico, ma ne estende sicuramente la portata, camminare quel miglio in più, cioè se la mia funzione è arrivare fino a X, nel momento in cui mi trovo di fronte a un cittadino particolarmente complesso, che ha bisogno di un orientamento diverso, più particolareggiato, più importante, lascio perdere le mie mansioni, le mie occupazioni, cioè quello che devo fare e mi occupo di seguire quel cittadino. Assume come fattore guida il bisogno del cittadino intorno ad esso plasma la sua azione. La tempestività, cioè il fattore tempo, si riferisce invece a due momenti della verità, quindi quanto il front office impiega a entrare in contatto, questo l'abbiamo già detto, secondo momento altrettanto importante, quanto ci mette il back office a risolvere l'istanza del cittadino. Questo è quanto ci dice un po' l'istituto appunto per i servizi centrati sul cittadino, ma l'Ocse ci mette un po' il carico su questo e dice, attenzione, che secondo noi esistono altri due elementi che definiscono la qualità del front office, cioè la qualità di coloro che hanno una relazione diretta con il pubblico, dei funzionari che stanno proprio nel rapporto con il pubblico. Adesso lo capiamo meglio dopo che abbiamo visto l'esperienza di Marta, il front office deve essere unico e multicanale, unico perché? Perché il cittadino non deve mai presentare la propria stanza due volte nei confronti della stessa amministrazione, come si fa con questi sistemi di gestione delle comunicazioni, in cui ogni funzionario descrive la propria comunicazione avuta perché così si attraccia dell'ultima comunicazione e di tutte quelle avute col cittadino, per cui anche un altro funzionario può sostituirsi tranquillamente dando quell'impressione di unicità nell'interlocuzione che fa effettivamente la differenza nei confronti dell'utenza. Questa è la prima regola d'oro della comunicazione relazionale applicata alla pubblica amministrazione e questo lo troviamo in questo documento dell'Ocse del 2009, ripensare i servizi di e-government utilizzando approcci centrati sull'utente. È molto interessante questo rapporto perché all'inizio dimostra come in realtà i servizi di e-government stanno prendendo una piega molto non relazionale, nel senso che, ve lo dico con un'esperienza che ho avuto sempre a linea mica, una famosa e nota agenzia governativa nazionale, molto importante, aveva inserito all'interno del suo sito una serie molto dettagliata di frequently asked questions, le cosiddette FAQ e nello stesso momento aveva disattivato il numero verde 800 eccetera eccetera, ad una interlocuzione che ho avuto io in risposta a una segnalazione negativa di un utente che non riusciva chiaramente più a parlare con nessuno perché l'interlocutore dell'agenzia mi spiegava, ma noi abbiamo inserito proprio le FAQ, cioè abbiamo inserito uno strumento informatico per migliorare e aumentare la qualità delle informazioni direttamente online, però allo stesso tempo avevano tolto il rapporto diretto con l'utenza e questo aveva probabilmente migliorato la qualità dell'informazione per una certa categoria di utenti che utilizzavano effettivamente i servizi internet, il sito eccetera eccetera, ma aveva molto peggiorato l'interlocuzione con una ampia categoria di utenti che poi erano una categoria prevalente di quell'agenzia governativa, privandoli sostanzialmente di un interlocutore diretto. In quel modo, e come dice anche l'Ocse, si pensa di fare un salto di qualità tecnologica attivando sistemi e strumenti di e-government, invece si stanno facendo dieci passi indietro sulla qualità relazionale e sulle aspettative di relazione che hanno invece certi utenti, soprattutto quelli più deboli o quelli che non hanno facilità ad utilizzare determinati strumenti. L'altro elemento fondamentale per un front office è questo, la multicanalità, cioè il front office è multicanale perché si adatta ai canali e agli stili comunicativi che i cittadini utilizzano. Quindi un buon front office che opera nello spirito dell'articolo 12 del codice di comportamento, gestisce una serie di sportelli, per esempio faccia a faccia oppure un numero verde telefonico o dalla possibilità di attivare la richiesta di stanze alla via posta elettronica, eccetera, eccetera. Questa è la seconda regola, cioè l'amministrazione si deve adattare agli stili comunicativi dell'utenza e non viceversa. Questo è un altro elemento fondamentale. Ulteriore elemento è catalogare l'informazione secondo live events, ma questo l'abbiamo visto prima, come si può fare. Un caso semplificativo di come si catalogano le informazioni secondo live events, noi ce l'abbiamo da un recentissimo servizio messo a punto da Formats.pa per il dipartimento politiche della famiglia, che è proprio Family Line, che è un po' la trasformazione di Linea Amica, diciamo un'evoluzione, una specializzazione di Linea Amica sui servizi che hanno a che fare con la famiglia, è attivo da pochissimo tempo, da una decina di giorni e come vedete nella sezione la mia soluzione quando ci sono una serie di percorsi di orientamento guidati all'interno dei quali vengono categorizzate una serie di informazioni su servizi che sono integrabili, cioè per esempio la mia soluzione quando arriva un figlio, ci sono tutti i servizi che dalla nascita, ma anche prima della nascita, bisogna fare per esempio l'anagrafica al comune poi quando nasce il figlio, la richiesta per esempio di un bonus bebè, eccetera, eccetera, cioè tutti quei servizi che hanno a che fare con questo evento della vita che è la nascita di un figlio. In questo modo l'utente non deve andare a cercarsi nello specifico il servizio disgiunto da tutti gli altri, ma capisce che probabilmente troverà la sua soluzione all'interno di questa macro categoria. Questa è una sperimentazione molto interessante e sicuramente è interessante anche prenderla a modello eventualmente, ma non è l'unica in Italia, queste categorizzazioni per Life Events ormai sono abbastanza note, anche se non sono ancora molto sviluppate. Qui c'è il problema proprio di come si concepisce un'amministrazione, un'amministrazione normalmente si concepisce rispetto a se stessa, quindi orienta l'informazione secondo il proprio organigramma e spesso e volentieri vediamo proprio le sezioni dei siti fatte appunto come se fosse l'organigramma dell'amministrazione. In realtà bisogna fare quel salto di qualità in questo senso nello spirito dell'articolo 12, mettere al centro l'utente che deve consultare quelle informazioni e pensare con la testa dell'utente, quando io ho un problema relativo alla nascita o cose simili, probabilmente in quel momento devo organizzare l'informazione mettendo insieme tutto quello che riguarda quell'evento della vita, è un po' un salto di qualità nel modo di concepire i servizi online o i servizi di informazione in generale. Allora, adesso chiudiamo questa parte e vi voglio portare negli ultimi 20 minuti insieme con me in questo secondo caso, sempre dell'articolo 12, probabilmente mancano 15 minuti faremo un po' in fretta però non fa niente, io ve lo voglio raccontare così con me, dopodiché voi potete utilizzarlo, fateci quello che volete con questo caso, magari in uno prossimo webinar potremo approfondirlo ancora di più però intanto è molto semplice, è un caso abbastanza che tra l'altro mi è successo veramente quindi abbiamo una testimonianza diretta. Di questo comma 3 dell'articolo 12 leggeremo solo la seconda parte cioè lasciando perdere un po' quello che... il comma 3 diciamo si occupa del cosiddetto rispetto degli standard di qualità e di quantità eccetera eccetera, ma a me quello che interessava era la seconda parte dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, opera al fine di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulla modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. In realtà è più o meno quello che abbiamo visto con Marta quando per esempio una possibile soluzione all'ISE, a come produrre l'ISE sul sito web l'amministrazione potrebbe aver messo una lista di erogatori di quel servizio, quindi una lista di caffo, magari georeferenziandoli in quel modo avrebbe soddisfatto, si sarebbe comportato secondo lo spirito di questo articolo qua. Io vi faccio il caso in cui invece questo non funziona, anzi succede una cosa molto particolare. Allora Marta, in questo senso il protagonista è Marta, è una funzionaria che da poco lavora presso l'ufficio anagrase della città di X, quindi siamo all'interno di un ufficio comunale, ufficio anagrafico, però insomma questo si poteva organizzare in qualsiasi altra tipologia di amministrazione, basta fare delle piccole modifiche. In questa prima fase in cui lavora si è trovata a gestire le procedure di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari. Il suo lavoro è a contatto con il pubblico che è composto per lo più da persone che non parlando italiano hanno difficoltà a comprendere quali i documenti debbano produrre. Ufficio anagrafe, iscrizione anagrafica di cittadini comunitari, un procedimento molto chiaro, molto dettagliato, ma l'utenza è particolare perché siamo di fronte normalmente a stranieri che hanno per esempio difficoltà con le lingue e che hanno difficoltà ad orientarsi con una burocrazia che non è la loro, è una burocrazia di un diverso paese. Nel caso specifico di persone che non hanno un posto di lavoro, un documento piuttosto difficile da produrre è la copia dell'assicurazione sanitaria e questo lo dico per testimonianza diretta, effettivamente così, quando una persona straniera non lavora, perché se no l'assicurazione sanitaria viene pagata dal datore di lavoro, deve produrre egli stesso un'assicurazione sanitaria. In realtà non è così complicato produrla, però per uno straniero che magari non parla nemmeno bene l'italiano potrebbe diventare un compito abbastanza arduo. Infatti Sofia, una ragazza greca di cui Marta si era occupata, non avendo capito che doveva produrre quel documento e non sapendo come ottenerlo, è dovuta tornare molte volte presso quell'ufficio e Marta si è sentita di doverla aiutare. Ecco che entra nell'animo di Marta l'idea che lei deve prendere in carico l'istanza di Sofia e quindi prendere in carico Sofia e nello spirito, perfettamente in linea con lo spirito dell'articolo 12, appunto di prendere in carico, walking the extra mile direbbero gli inglesi. Chiedendo ad altri funzionali del suo ufficio, Marta viene a sapere che uno dei tanti broker assicurativi presenti nel quartiere o agenzie assicurative, chiamatele come volete, ha messo a disposizione dei biglietti da visita da consegnare ai richiedenti nel caso si trovassero a dover produrre proprio quel documento. Il broker assicura anche che i propri operatori sono in grado di spiegare in varie lingue in cosa consiste l'assicurazione sanitaria e possono produrlo in tempi brevissimi a un costo relativamente contenuto. Marta parlando un po' con i suoi colleghi, i suoi colleghi gli dicono guarda Marta noi abbiamo un broker assicurativo che ci ha messo a disposizione questi biglietti, quando si presenta questo problema noi lo diamo agli utenti e gli utenti risolvono, anche perché questo broker garantisce un'interlocuzione nella lingua d'origine di questi utenti. Quindi a Marta viene in mente di consigliare a Sofia quel broker consegnandole uno di quei biglietti da visita. Quindi Marta pensa di risolvere la presa in carico diciamo di Sofia consegnandole proprio quel biglietto da visita e dicendole di recarsi presso quel broker assicurativo. Però parlando con un suo collega scopre un paio di cose piuttosto inquietanti. Mario, un collega anziano di Marta, le fa notare che i biglietti da visita del broker non sono esposti sulle scrivanie ma i funzionari li tirano fuori dal cassetto quando capiscono che ne hanno bisogno. Inoltre fa notare Mario il titolare dell'agenzia assicurativa è il marito della dirigente dell'ufficio. E qua Marta comincia a non cadere più dal pero comincia a vederci qualcosa di oscuro. Devo ringraziare alcuni funzionari dei castelli romani che mi hanno raccontato questa vicenda perché io da solo non l'avrei mai costruito questo caso. Invece qui casca l'asina. Allora mettiamo questo scenario nella nostra famosa scheda in cui rappresentiamo le possibili opzioni che Marta ha rispetto al suo dilemma etico. Dilemma etico perché? Perché Marta capisce benissimo che c'è qualcosa che non funziona. In realtà facendoci caso in quel momento i funzionari stanno violando proprio quell'articolo di cui abbiamo parlato prima. Adesso ve lo faccio rivedere per chiarezza. Il dipendente opera a fine di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori, non l'orientamento verso un unico erogatore. Cioè che cosa avrebbero dovuto fare i funzionari? Produrre una lista in cui dicevano in maniera trasparente questi sono i broker assicurativi qui vicino, queste sono le condizioni eventualmente, questi sono i prezzi, vedete voi quello che potevano produrre. Però l'importante è che questi producessero non l'individuazione del broker assicurativo ma la scelta tra diversi erogatori perché è una cosa molto diversa perché mettersi d'accordo con uno broker assicurativo potrebbe invece nascondere un proprio fatto corruttivo. perché per esempio il broker assicurativo potrebbe corrispondere ai funzionari che fanno questa operazione di segnalazione una percentuale per ogni singolo utente che poi effettivamente va a fare l'assicurazione presso quel broker. Queste sono le quattro opzioni, la prima opzione è l'opzione numero 4, partiamo dal basso, è quella più in fausta, cioè Marta decide di consegnare il biglietto e in cambio richiede una percentuale per ogni utente che il broker gestita per merito suo. Al di là della sua enfasi relazionale di prendere in carico l'istanza di Sofia, in realtà poi Marta si dimostra più scaltra di quello che avremmo pensato e dice ma perché fanno tutti così, mi voglio unire anch'io a questo circo e quindi in realtà oltre a consegnare biglietti comincia effettivamente a fare questo tipo di operazione illecito sotto banco e qui alla fine chiede anche una sua percentuale all'operatore economico esterno. Quali sono le questioni? Che chiaramente questa scelta produce sicuramente un fallimento etico, produce anche un fallimento reputazionale perché immaginate se questa informazione va in giro e soprattutto quella che spesso e volentieri nelle interlocuzioni che ho con i funzionari pubblici, questi tendono un po' a mettere poco in evidenza, è il fatto che in quel momento Marta, anche se nel suo piccolo, non è che stiamo parlando di grandi corruzioni, ma sta selezionando gli operatori locali, cioè sta dicendo agli operatori locali organizzatevi e perché io premierò quello che sarà disponibile a operare un illecito e in quel momento sta selezionando gli operatori locali dicendo premierò solamente questo tipo di operatori locali, l'operatore locale che è disponibile a pagare Marta per questa transazione illecita, chiaramente entrerà in un regime di distorsione della concorrenza, avrà un privilegio rispetto agli altri, in questo modo gli altri operatori, i broker assicurativi andranno in perdita e cominceranno a chiudere e in quel momento resterà in piedi solamente quel broker assicurativo che ha questo tipo di rapporti con il funzionario pubblico, in quel momento il funzionario pubblico decide delle sorti della classe imprenditoriale, chiaramente nel suo piccolo, però immaginate che potere ha in quel momento. La seconda opzione è che Marta decide di consegnare il biglietto senza fare tutte queste altre situazioni, senza richiedere nulla in cambio, ma decide di farlo solo come in un malinterpretato bisogno di soddisfare la necessità di Sofia in quel caso, cioè della ragazza greca. Lei sta risolvendo un problema a Sofia, ma in realtà sta producendo sia un fallimento etico che un fallimento reputazionale della sua amministrazione. Dopodiché Marta decide di non consegnare il biglietto è la seconda opzione. C'è un fallimento sicuramente, anche se questo potrebbe sembrare un comportamento corretto, noi dobbiamo entrare nell'ottica che è sicuramente un comportamento corretto, nel senso che almeno lei non fa questo tipo di operazione, però non è l'unico comportamento che potrebbe tenere, in realtà per avere un comportamento corretto secondo quello che l'etica pubblica è espressa dal codice di comportamento della pubblica amministrazione, l'opzione dovrebbe essere la numero uno. Marta decide di non consegnare il biglietto, mette a disposizione una lista di broker cittadini perché in realtà lei nel suo animo ha la questione di prendersi in carico la soluzione del problema di Sofia, ma poi segnala il conflitto di interessi e il comportamento illecito eventualmente al responsabile di anticorruzione. quindi il comportamento più eticamente orientato è questo qui, da una parte decide di non operare quel tipo di comportamento illecito, ma poi si rende effettivamente disponibile con spirito di servizio a prendere in carico la distanza di Sofia consegnandole una lista di broker cittadini per esempio, facendo una ricerca su quante agenzie assicurative esistono nella sua zona e consegnandole quella lista, però poi la cosa più importante segnala quella situazione, segnala quel comportamento che stanno tenendo gli altri funzionari ai suoi colleghi. Chiaramente non lo può segnalare al proprio superiore gerarchico come direbbe l'articolo 8 del codice di comportamento perché il superiore gerarchico è in conflitto di interessi proprio su quella situazione e quindi lo deve segnalare al responsabile anticorruzione. Eventualmente ci fosse una polisi di whistleblowing saremmo ancora più tranquilli rispetto a questo. Quindi comportamento più eticamente orientato è questo qui che vi presento in questa slide. L'ultima parte di letto di spoil non ce la facciamo, ma è molto semplice, in realtà ve lo accenno semplicemente, il comma 4 dell'articolo 12 dice che il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni e azioni proprio altrui inerenti all'ufficio che in inglese si chiama lo spoiling. Sapete quando andate al cinema e qualche amico buontempone vi rivela il finale? Si chiama, appunto, l'amico buontempone viene chiamato spoiler, cioè quello che rovina il finale alle persone. Qualche volta, per esempio quando vi dicono che siete registrati la partita di calcio, arriva vostra moglie, in spirito di grande cooperazione, vi confessa che l'Italia ha vinto 2 a 0 ed è campione del mondo. Era anche per finire con una nota, però è quello effettivamente, il dipendente non millanta di essere, capito, spesso e volentieri a Roma li chiamano i piacioni, cioè quelli che vogliono far vedere di essere nella stanza dei bottoni, quelli che stanno dentro dove vengono prese le decisioni, allora in qualche maniera anticipano l'esito delle decisioni anche per far vedere sostanzialmente che loro hanno partecipato a quelle decisioni, è un fattore che induce un cosiddetto fallimento reputazionale nei confronti della pubblica amministrazione. Il termine spoiler lo vedete qui, sostanzialmente è questo. non so se ci sono domande, vi faccio vedere il quadro complessivo di tutti i webinar che abbiamo trattato rispetto al codice di comportamento, vi ricordo peraltro brevemente anche il sito dove voi potete trovare tutto questo, il blog spazioetico.com, eccolo qua, è un materiale che io metto a disposizione insomma, chiaramente utilizzatelo quanto volete, se volete insomma, io vi chiedo sempre questa cosa, se volete scrivere sul mio blog mandatemi articoli, io sarei molto contento, soprattutto quelli che conosco e che so che potrebbero avere molto da dire insomma tra di voi. Allora vi saluto e vi auguro una buona estate perché sicuramente se ci sentiremo ci sentiremo la settembre, ottobre in poi e vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione rispetto per esempio a eventi formativi che magari organizzate nelle vostre sedi. Grazie e buona giornata a tutti.